Ehi la ciurma! Io sono mazziettesse e ben ritrovati qui sul nuovo mondo sul nuovo Ma che è il nuovo? Cioè siamo tipo all'episodio 12 Tarantella, fase tribù No ma la fase tribù l'abbiamo finita, tra l'altro ho notato che nei video ho sempre scritto fase civiltà Non è la fase civiltà, non siamo ancora civilizzati, siamo solo dei tribù Come si chiamano gli abitanti di una tribù? Dei tributari? No, eh Pavlag, Dragon Picard 69, rifinitura delle animazioni, beh però Eeeh, sì Questo qua sapete cosa mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente i caricamenti di The Sims Sono una roba... Tipo che uno dice no, non voglio mai più comprare un The Sims perché ha dei caricamenti di 400 lustri Cioè... Potrei tipo riiniziarlo da adesso, no? Tipo... Io sono Marzetta e sei benvenuto in questo nuovo episodio di... Tase tribù Ok, no, eccoci, possiamo tipo evolverci diventando una... Chi ti ha detto di raccogliere il regalo a te? Ma già lo sta portando via, ma che che... Ah no, si è messo in coda Che... Che gente civilizzata, altro che tribù Si sono messi in coda pure per portare un regalo, ma che cazzo Avanziamo la fase civiltà, ma che meglio Storia Alleanza Sì, 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 sì Siamo dei socevoli Perché abbiamo fatto alleanza... Ma se vai così veloce non capisco Vabbè, socevoli Siamo stati erbivoli Socevoli Socevoli Sarà religiosi, mi pare, la prossima Eh, siamo vivi da 81 milioni di anni Ma però E poi... Ah, questo si sposta Lolli, lo... Alleanza 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 Tutti alleati Perfetto Adesso diventiamo dei super civilizzati In mega potenza Adesso dovremmo tipo fare tutto il... Dice Sì, perché non facciamo una casa Che ha due occhi più grandi Sì, però dovremmo lasciare essere spalle del passato E per diventare civilizzata Speriamo che sia poi civilizzata Su serio, veramente Ah, il municipio Però io non... Io non ho voglia di costruirlo nel municipio Sporepedia Non posso prenderlo Scegli un municipio Tutto Un... Centro meteore Com'è questo affare? Vediamo Sì, sì, sì Va benissimo Dai Veri qualcosa Vediamo un attimo Questo Sì, dai Ci sta abbastanza Va bene Sì, l'ho lasciato chiamato Ork Perché non me ne frega un Kaiser È la parte più noiosa di tutte Secondo me E naturalmente loro costruiscono un municipio così da zero E non hanno neanche case Né niente Cioè Sono cresciuti i fiori in faccia E perché quello sta in mezzo ai fiori? Molti occhi Sono belli molti occhi Eh sì, il bug dello scettro in testa Possiamo fare delle macchine con degli occhi dentro Sì, mi piacciono le macchine con tre ruote e un occhio dentro Chi offre? L'occhio? Tu No, io offro da mangiare Eh? No, no Tu devi offrire l'occhio Il municipio Sì, il municipio Occhi Sì, occhi La macchina con un occhio Sì, la macchina con un occhio Yeah Abbiamo sbloccato un achievement di Minecraft Ah, pure lo smile sorridente Ok Hanno appena scelto di fare una macchina con tre ruote e un occhio E poi fanno dei fuochi d'artificio con uno smile Ehm Il nome è veicolo terrestre Vediamo cosa c'è qua Ah, queste erano delle schifezze che avevo creato io Ma è orribile questa cosa È orribile sta a fare Dove ho dire lì Il potere religioso Ah, gli occhi è il potere religioso Un momento Questa cosa è salute Ma io vorrei Qualcosa di più sexy Tipo questa macchina qua Ma poco potere religioso però Però guarda che sexy Ma perché mi parti sempre dalle mie creazioni? Le mie creazioni sono quali che fanno più schifo Questo ha 28 di potere religioso Questo 19 Questo quanto ne aveva? 28 sempre Corno vichingo 18 30 Quindi 19 Sì 31 È troppo gay La devo scegliere Sì Cioè Wow Sì 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 Tutta la vita È tipo Una delle cose più assurde Che abbiamo È un altro caricamento Yeah Impianto dei fattori Dei trattori Delle mimetiche Dei carri fluttuanti Carro buffo Jet da fare Coop Spia Sì perché uno spia Ma dove fa? Ma dove sta quello? Ma che che? Yeah Abbiamo una macchina Con tre ruote E un occhio No magari non neanche tre Quella macchina di ruote Oddio Adesso arriva la parte che Forse la parte che mi piace Di meno di tutta la partita All'era civilizzata La lotta per il domino planetario Esatto Però prima dobbiamo andare a prendere delle spezie Ok per ogni città conquistata Tutorial visuale Perfetto Pianificatore della città Cosa che possiamo fare? Ah possiamo mettere le varie cose Tipo la casa L'intrattenimento La fabbrica E la torretta Allora se abbiamo dei punti Metterei le torrette Abbiamo 3000 punti Facciamo una fabbrica allora Ah non Ah devo progettarla Questa fase è odiosa Già solo per il fatto che devi progettare tutto Fabbrica di fu Fabbrica di fu Che ci passa le ore a creare queste cose Ma Io lo trovo la parte più noiosa di tutto il gioco Il fatto di creare Questa Dai c'è pure i pipistrelli che volano Abbiamo creato tutto Oh posso mettere una fabbrica adesso? Sì Sono scontenti Quanto scontenti? Uno scontenti Una casa produce molto di più Vero? Aspetta se io questa la metto qua No Ah io metto una casa qua E metto una fabbrica Produce solo 400 Se metto una fabbrica qua Ecco mi produce molto di più Mi produce 800 E non ho più soldi per l'intrattenimento Però non sono troppo scontente Sinistro e destro Ma io non voglio spost... Voglio Prima andare a assicurarmi Ma questa non è la mia macchina Scusa un attimo Ehi Ah no si vede che devo fare Ok I tasti freccia No vuoi proprio i tasti freccia Li ho usati Ok Rotellina Clicca sul tuo veicolo Scusate ragazzi La spezia La spezia Sì guys Ma perché me lo dici tutte le volte? Lo sappiamo già tutti Cioè Dove è che era la spezia? Qua No L'ha in mare Qua Posso costruire? No Mille Non ho abbastanza sporre crediti Ok Presa la spezia Perfetto Vediamo se ce n'è altra qua in giro Qua Ecco gli altri Arrivano anche loro Alla fase città Quindi dovremmo lottare Contro questi pezzenti Cioè che poi passano Da essere Uga Buga Ad avere delle macchine Con degli occhi Posso ucciderli questi Per convertirla Sì ma non ho Veicoli In pratica C'è sto tizio qua E basta Uh ho già Mille sporre crediti Dai vai Elenco flotta Se io voglio pigliare questo Tutti e due Voglio solo lui Posso andare a picchiare Questi tizi qua No ma diventeranno Una città Anche loro diventeranno Una città Ah Guarda ci sono quei pezzenti Qua che stanno Già iniziando a Provo a mandarne uno Ma credo che non cambierà Un fico secco di niente Dov'è la mia città? Qua Metti un po' di Intrattenimento Così mi produce di più Probabilmente Ok Metterei una casa in più No non ho soldi Vabbè Però farei un altro Veicolo credo Sì Sì Vabbè convertire qua Prima che Questo dov'è Dove 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 sono? Ok Ce n'è uno che è qua E proviamo a convertire questi Ah poi c'è i rossi là sotto Si sono già sviluppati tutti Tutti in pratica La situazione qua Mi stanno morendo tutti qua Sono nemmeno a un quarto Però posso farne due Prendi e vai qua Dai 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 Che magari ce la facciamo direttamente Lasciamo subito la prima città 840 Dai Produci più spezie Produci più spezie 1100 Vai Scusate raggi ma a me piace un po' Rushare Soprattutto per evitare che si Potenzino di più ancora Ok Ok l'abbiamo presa Yeah Prima andata E sono diventati Ora Nostri E han cambiato tutto Eeeh Una città militare Noi la trasformo in religiosa Mi spiace Sei in guerra con la nazione arancione Perché? What the fuck? Questi sono arancioni Questi sono gialli Allora dobbiamo andare contro gli arancioni Deve essere Ciclatore città però Lui come ha messo? Potrei... No 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 Non ho praticamente niente Posso costruire... Non posso costruire un Kaiser? Ah però qua ci sono delle cose di spezia qua vicino Ecco tipo questa Ah no E di chi è questa? Qua Vai a prendere quella E tu dove... Dove sei tu? Vai a prendere... Questa E gli altri non so dove siano Ma... Poco importa però Ok due veicoli terrestri Vediamo un attimo se riesco a convertire i rossi C'è già qualcuno che ce l'ha con i rossi? Gli arancioni? Sono in guerra anche con me Magari riusciamo a fregargliela No la stanno convertendo gli arancioni Forno No io sono più veloce Sono più veloce Guardate che sono più veloce Selezioniamo tutti i religiosi Rimandiamo qua Ma chi sta conquistando cosa? I blu stanno conquistando... I blu? Ah no i viola Sai che ce la facciamo? Dovremmo farcela Dovremmo far... Faccerbi... Tutto Ah là i gialli stanno conquistando qualcosa Tre le manderei qua contro gli arancioni L'abbiamo presa anche L'abbiamo presa noi Yeah Si cazzino del Kaiser Posso saltarla? Si Tutto religioso E mandiamo Qua convertini Nazione blu ha conquistato Chi mi sta attaccando qua? Ah questo pezzente qua Mamma Si mi dice La tua nazione è troppo grande No la cifra ci si Cioè vogliono spennarmi Avete capito? La mi dice Progetta una città felice Ma quella non è felice Ah no quella è media Ah gli arancioni Mi hanno dato un messaggio Mi insegniamo la fede Ma figurati Oddio no Mi stanno attaccando qua Le cose di spezia Ti frego adesso Che succede? Mi stanno attaccando la tua città Quale è? Questa? Ehm È felice questa? Siamo delle torrette 2000 costano le torrette Porca miseria Ma quale città mi stanno attaccando? No Non mi stanno attaccando Tutto acqua Questa? Ma pupazza Cazzo Arancioni del manga Ma io li sto conquistando di qua Ma mi stanno sfasciando Non credo di farcelo Ok abbiamo perso ragazzi Non ce la si fa forse qua Sono strateristi E stanno scioperando Quindi non dovrebbe essere Troppo grave Perché Tu vai a toccare questa Vai a toccare quella Che ci stanno fregando la spezia qua Questi pezzetti Ce la facciamo? Ce la si fa? Ce la si fa? Non ce la si fa? Cosa sta a fare? Dracone Epico Ok E adesso vediamo di Risolvere questo Prima che ci prendano la città Se è possibile Qua ce la stanno attaccando Nespa Ah no Ce l'hanno conquistata Lol Ma perché produciamo così poca spezia? Porca la pupazza Quello vuole che gli paghiamo dei soldi Ma stai Ma Ma muori subito Senti eh La nostra città base è sotto attacco Ma che che Non ho neanche soldi per le torrette Ma che Ma non voglio parlare con questa gentaglia Vai a sfasciare quella gente là Ma questa città Siamo riusciti a pigliarla O no? O stanno State ancora Girando i pollici? Dove è andata l'altra che era sotto attacco? Questa? L'avete liberata? No Mi sono morti come dei cani Ma Mi hanno distrutto la casa o la fabbrica? La casa Che era come una fabbrica La fin fine per me Ma guarda quanti danni del manga che fanno Ma che caisse? Ma cosa qua? Almeno l'abbiamo presa Ma non l'abbiamo neanche presa Ma Che gente del caisse di 960? E non mi produce neanche più spezia? Non ha 1200 E' una delle città sotto attacco Ma non posso farci niente Non ho soldi Oh ragazzi è passato parecchio tempo Credo che ci vedremo nel prossimo episodio Io vi saluto Ciao a tutti Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Ciao 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 ciao